Ragazzi guardate come bravo Minotatu, lo trovate a Mugnano il tatuatore degli artisti, dal vostro Savio Cavalli guardate l'arte, mostriamolo vai Bravissimo veramente, non ho parole Scusate per l'immagine Scusate per l'immagine perché non eravamo forniti con una camera Canon, Sony Abbiamo una piccola fotocamera però, comunque, l'importante è notare il tatuaggio dove c'è scritto Vittoria In questo pentagramma musicale con queste note che furiescono e si espandono per tutto il braccio Minotatu, ricordate ragazzi, Minotatu, il tatuatore degli artisti